I dati parlano chiaro, sono quelli elaborati dalla CGA di Mestre nell'intento di descrivere l'attuale economia bellunese. Nella nostra provincia la popolazione tra 2005 e 2015 è scesa del 2%. Il valore aggiunto che esprime l'andamento della crescita economica con la ripresa è cresciuto di più, ossia un 3,1% rispetto a quello del Veneto. Il preoccupante è lo spopolamento dell'area bellunese, più vistoso rispetto allo spopolamento del resto del Veneto. Dai dati è emerso inoltre che una porzione considerevole dell'economia bellunese è costituita dal settore manifatturiero. Teniamo presente che la provincia di Belluno è una delle province dove il manifatturiero è più rafforzato, più presente rispetto anche ad altre province del Veneto ed è una delle 15 province più manifatturiere d'Italia. Attenti, lancio un messaggio, qui siamo in presenza di una quasi assoluta monocultura produttiva. Questo ha indubbiamente dei dati positivi, quindi capacità di investimento, quindi capacità di innovazione e quindi capacità di crescita economica. Attenti, occorre mettere attorno a questa monocultura altre culture produttive. Dunque, quali conclusioni trarre? I dati dimostrano, ed è importante questo, che Belluno non è una provincia povera del Veneto. Belluno è una provincia che sta a tavola, come dico io, con tutte le altre province del Veneto. Questo in termini di reddito pro capite, in termini di occupazione, in termini di capacità produttiva, in termini di PIL, cioè di produzione di ricchezza. Confermato il ruolo di Belluno come leader mondiale dell'occhialeria. C'è una nuova riorganizzazione all'interno del sistema dell'occhialeria, quasi quasi possiamo dire un nuovo rinascimento, perché i grandi marchi, quelli di alta gamma, che sono in licenza, hanno deciso di riportare tutta la produzione nel Veneto. Presente per l'occasione anche il presidente della provincia, Roberto Padrin. I dati che sono emersi dall'incontro di questa mattina sicuramente viene evidenziato il fattore negativo che riguarda lo spopolamento della nostra provincia. Il nostro territorio segna dei numeri che sono molto preoccupanti, soprattutto anche in prospettiva futura, nel giro di qualche anno, potremo scendere addirittura sotto i 200.000 abitanti. Quindi dobbiamo cercare di lavorare per cercare di controbattere a questo problema, che è un problema strutturale. Noi come provincia ci stiamo lavorando, stiamo preparando un progetto insieme alle organizzazioni sindacali allo SPI di welfare e identità territoriale, che possa cercare attraverso delle iniziative centrate e mirate di venire incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini. Grazie a tutti.